buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati a questo digitale words è stato sicuramente un anno molto importante e molto impegnativo sicuramente è stato un anno eccezionale è stato un anno in cui io credo che tutti noi abbiamo avuto dei momenti di grande paura però è stato anche un anno in cui ci siamo tutti resi conto e delle grandi potenzialità che ha il mondo digitale e sotto questo profilo sono veramente particolarmente felice di essere di nuovo qui con voi quest'anno al digitale words sono molto curiosa devo dire di vedere tutte quelle che saranno le iniziative le proposte che voi porterete e sono sicura che questo anno tutto quello che in realtà è successo hanno fatto sviluppare la nostra creatività e la nostra progettualità quindi sinceramente da parte mia e da parte tutto il mio studio i nostri migliori auguri